gentili telespettatori buona giornata sentite questa strampalata proposta della lega via il reddito di cittadinanza i genitori di quei ragazzi che che in strada fanno casino quelli che chiamano le baby gang no ma che cavolo vuol dire cosa c'entrano i genitori il genitore responsabile e non sempre il genitore responsabile ma sentite allora la lega è pronta a depositare un nuovo disegno di legge per mandare un messaggio forte ai bulli e alle loro famiglie via il reddito di cittadinanza ai genitori di figli indisciplinati se questa famiglia il reddito significa che economicamente non se la passa bene magari vi dico io magari hanno dei problemi anche abbastanza importanti in queste famiglie in generale allora che fai visto che tuo figlio va in giro a fare casino in città allora ti tolgo il reddito di cittadinanza così cosa succede che gli togli anche da mangiare dice che la cronaca è piena di questi fatti di ragazzi che fanno nel combino di tutti i colori e così arriva la proposta della lega di prendere seri provvedimenti per scoraggiare simili comportamenti coinvolgendo direttamente anche i genitori dei ragazzi si fa strada infatti l'idea di togliere il reddito di cittadinanza così come l'assegno unico alle famiglie di tali soggetti a parlare il sottosegretario alla giustizia andrea ostellari che nel corso della trasmissione dire donna oggi ha commentato alcuni degli episodi legati al bullismo eccetera eccetera che sono registrati ormai che si registrano ormai da tempo la lega sta seriamente pensando di togliere assegno unico il reddito di cittadinanza ai genitori dei baby bulli la proposta ha fatto sapere ostellari sarà effettivamente depositata nelle prossime settimane ma avete chiesto a giorgia meloni che cosa ne pensa voi depositate leggi così senza parlarne con il capo del governo la legge attuale prevede un'ammunizione un provvedimento di ammunizione alla presenza dei genitori oppure da 14 a 18 anni lavori socialmente utili subito oppure processo ordinario con pena senza sconti come abbiamo anticipato potrebbero esserci serie conseguenze anche per le famiglie dei giovani che hanno commesso queste queste robe per i genitori una serie di provvedimenti che vanno a sospendere l'eventuale assegno unico o reddito di cittadinanza percepito dalle famiglie la giustizia nel nostro paese ancora considerato un costo non una risorsa dobbiamo cambiare paradigma visione e investire in personale e magistrati solo così avremmo la possibilità di cambiare il nostro sistema ha aggiunto nelle prossime settimane dunque il carroccio proverà e provvederà a depositare un nuovo disegno di legge scusate mirato a scoraggiare i giovani dal mantenere certi comportamenti e al contempo spingere i genitori a controllare i figli un segnale forte da inviare alle famiglie la lega nei giorni scorsi ha approvato la decisione del questore via osta di vietare l'utilizzo del telefono cellulare a quei ragazzi che fanno casino in giro per le città allora a me ma come fai a vietare il telefonino cioè chi ti controlla che ma chi ti ma chi ti toglie il telefonino vietare l'utilizzo del cellulare a quei ragazzi che fanno casino ma che ma come fai a vietare il cellulare e vai a controllare in tasca se hanno un cellulare a me sembra una sciocchezza assurda quella di vietare il cellulare o togliere il reddito di cittadinanza alla famiglia del ragazzo che va a fare casino in città a me sembrano delle fesserie queste robe qua cioè non so voi ma vedo questa lega sempre peggio sempre sempre peggio ma 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 buh realmente non riesco non riesco a non riesco a capire per risolvere il problema togli il reddito alle famiglie va beh che la lega toglierebbe il reddito a tutti ma che caspita significa una roba del genere boh vabbè insomma è cosa vi devo dire naturalmente c'è chi chi c'è chi sotto queste notizie scrive speriamo punto esclamativo speriamo io non sono favorevole al reddito di cittadinanza io me lo sono sempre cercato al lavoro sempre sono stato a volte anche dei mesi senza lavoro parecchi mesi senza lavoro e mi ero mi sono anche mangiato quello che avevo messo da parte mi pagavo anche l'affitto mentre ero senza lavoro utilizzando la liquidazione eccetera eccetera me lo sono sempre cercato lavoro ore e ore sul computer a cercare lavoro a spedire sempre sempre mi sono cercato lavoro quindi io non condivido il ragazzo di 25 anni che a casa con il reddito di cittadinanza davanti alla televisione è qualcosa di profondamente immorale e c'è la possibilità di uscire da condizioni disagiate cioè ma i lavori pagano poco si può si può io mi sono messo a studiare da solo di notte l'università io studiavo di notte a varese l'università me la pagavo da solo i lavori me li cercavo da soli a me non ha regalato niente nessuno quindi come ho potuto farcela io ce la può fare chiunque poi se mi dia ma quello non c'ha voglia e allora è un problema suo se non c'ha voglia io non sono favorevole al reddito di cittadinanza per chi può lavorare sono esattamente in linea con il centrodestra che dice bisogna toglierlo a chi può lavorare dai 18 ai 60 anni però la proposta di togliere il reddito di cittadinanza i genitori dei figli che vanno a fare casino nelle città mi sembra veramente una cretinata ma di quelle proprio che non si possono sentire e anche quelli che scrivono sotto speriamo punto esclamativo siamo allo stesso livello di chi le propone cioè quello che dice speriamo e quelle che le propone quello che la propone il livello è lo stesso ecco diciamo che sono sempre più in basso questi leghisti sempre più in basso 8 per cento che hanno 7,9 non lo so sinceramente sinceramente sono abbastanza desolanti grazie a tutti per avermi ascoltato e vi auguro buon proseguimento di giornata ci vediamo al prossimo video tra una ventina di minuti arrivederci a tutti e grazie ricordatevi che c'è anche tele italia seconda rete e poi anche in cucina con carla con la k arrivederci a tutti